ahahahah ragazzi mi vedete un nuovo video qui è.. il capo di scuola il capo di scuola che oggi qui il nuovo video che hanno fatto su quello di tutti speriamo di fare buona conquista bella 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 yeeey blu 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 oh 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 ora è impossibile! chi è wanya? youtube cerca wanya wanya! waaah oh ragace ragace wanya si wanya wanya blu! wanya blu! wanya blu! oggio che è wanya blu! ma c'è ancora che c'è? ma wanya non è un youtuber? ma... wow wanya blu! uno di Wanya! urgical No, non ci sei! No, non ci sei! No, non ci sei! Le acrobazie seguite in questo video sono effettuate da professionisti. Per proteggere la tua sicurezza e di chi sta intorno, ti invitiamo a non imitarle. Si consiglia la visione accompagnata da un adulto. ... ... ... ... ... Non è lui! Se si buttano in un video, si c'è quello che dice! Basti! Basti! Basta! Ma guarda che schifoso ma sputtatevi in un occhio Ma scuola che mi ha fatto guagno Ma queste cose non le mandi su internet Guardate come è scattato, guardate come è scattato da quando è morto Oh ragazzi è guagna Sì è guagna, è guagna, è guagna, è guagna, è guagna, yeah, blu 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 E' guagna, è guagna, però non, è youtube nooo non voglio essere questo solo Rocksville è impossibile come tu WanyaBlu WanyaBlu blu 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 è impossibile oh sono loro WanyaBlack poi c'è Wanya.it si e sono a livello 24 aspetta devo cercare di capire che significa Wanya spawn uccisione confermata uccisione confermata un cichino è bianco che ha fatto due hitmarker due ma stiamo si col cichino lì guarda questo madomo fa una schifra uccisione 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 ando sono dietro eh bravo arrivo da dietro ah mi avverete ma come è la prima non c'è il il ancora ma 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 quella ma Luca cosa 12 un buon no ma due l'ultima An development come l Server no e' cercare e' un anno no non ci credo 4 si va adeguano guagno archivo anna non per me con la vita è una pipa Wanya fastivo ma che palla però hanno tutte le impostazioni del disegnatorio rompi palla sta cosa e come Wanya è più forte di voi no ma è su youtube almeno e ha lo stesso nome che sta allettando il giro a Emanuele bravissimo bravissimo ma che parli con lui oh yes oh yes oh yes Wanya io mi stavo facendo Wanya preferirei trovare uno come Pommage però va bene Pommage si è un bravissimo ah si quello che ci fa lui è pro gamer veramente ah si che spai ama lo ha dei crits si vinto guarda guarda Wanya con il cecchino questo Wanya ci sei? cosa devo cercare quindi per trovarlo? questo si su Wanya su youtube cerco Wanya ha tipo 1266 video ha fatto Wolfenstein GTA no c'è da incontro Wanya 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 io l'avevo visto Wanya e li portano a fare insomma fosse mai lui sono rientrato e ho detto Wanya è blu Maria yeah blu 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 nooo è questo Wanya eh mi è sembrato a riusciterlo ah ma ha fatto guarda ti ha ucciso dovrebbe essere lui il mio amico è Wanya ci ritroviamo dopo mesi e mesi ma Wanya non è lo youtuber? allora diciamoci Wanya se sei te metti lo scudo è lui è lui ah 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 ci ritroviamo dopo mesi e mesi so che ti sono mancato anche tu dai Wanya blu 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 mamma mia mamma mia è troppo forte ecco lo scudo